Buongiorno in diretta, la rassegna stampa di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, Occhio ai giornali che comincia subito dopo la messa del Papa da Santa Marta con la lettura dei giornali, il santo del giorno, le previsioni del tempo, vediamo e cominciamo subito dal santo di oggi anche se la chiesa oggi ricorda in realtà l'annunciazione del Signore, un evento, un evento importantissimo, l'angelo che annuncia a Maria ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e verrà chiamato figlio dell'altissimo e Maria cosa dice, cosa risponde ecco sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Il sole è sorto un minuto dopo le 6, tramonterà le 18 e 27. Il bollettino della protezione civile delle marche per questa mattina prevede precipitazioni soprattutto al mattino a carattere di rovescio, più insistente nelle zone interne, con limite delle nevicate attorno ai 200-300 metri, localmente anche a quote di pianura in occasione dei rovesci più intensi, gli accumuli significativi sono previsti oltre ai 300-400 metri. Dal pomeriggio le precipitazioni deboli diffuse nelle zone interne e sparse altrove con limite delle nevicate che però è in progressivo rialzo fino a 500-600 metri, localmente anche a quote inferiori nei fondovalli e nelle zone interne, le temperature sono infatti in aumento nei valori massimi. Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 26, ancora neve nell'Appennino, mentre per effetto dell'aumento delle temperature pioverà lungo la costa. Per venerdì 27 ancora cielo perturbato con precipitazioni diffuse, ancora temperature in lieve aumento, il tempo migliorerà poi nel corso della giornata lungo la costa, ma avremo ancora venerdì precipitazioni soprattutto appunto nella parte interna della regione dove ancora sulla vette, oltre ai 1200 metri saranno possibili ancora delle nevicate. I giornali di oggi, Resto del Carlino, Corriere Adriatico, andiamo subito a vedere l'edizione di Pesaro del Carlino, Bertolaso positivo, questa è la fotografia, Ceriscioli in quarantena, il virus si accanisce sulle marche, il Presidente si blinda in casa dopo l'incontro con l'ex capo della protezione civile ad Ancona, incredibile sfortuna in questo momento cruciale, inevitabile il mio auto isolamento, ha detto il Presidente Ceriscioli. Strage continua, ora i morti sono 283, ieri altri 32, 16 in provincia, più altri 21, per i quali adesso c'è la certezza del contagio e 4 non residenti. La resistenza paga, i contagi si vedono spiragli di luce, la tendenza nel pesarese, dobbiamo tenere ancora duro, forza perché questo nostro essere legge al dovere poi ci ripaga, ci ripaga con l'abbassamento del numero dei contagi e con quella benedetta luce che speriamo presto di vedere in fondo al tunnel. Nuovo ospedale, 2 milioni dalle aziende, raccolti fondi in salita, ricorderete insomma gli industriali, Ceriscioli ha fatto un appello, servono 12 milioni di euro perché se aspettiamo la burocrazia ci vorrà troppo tempo, non abbiamo tutto questo tempo, quindi 12 milioni ha chiesto aiuto agli imprenditori marchigiani, ma già gli imprenditori pesaresi hanno contribuito in qualche modo per finanziare progetti a Marche Nord, quindi adesso vogliono capire un po' meglio. Per quanto riguarda invece di taglio basso, qui le notizie sempre in primo piano, sul Carlino Carloni sto meglio, ma è cambiato tutto, l'intervista al consigliere regionale della Lega, mentre casa di riposo a Mondolfo, parenti pronti a denunciare, 16 ospiti positivi sui 20 totali, ora tamponi a tutti gli utenti e anche gli operatori. Questo invece è il Corriere Adriatico, a centro pagina, morti e contagi, il buco nero degli ospizi, c'è un'inchiesta del Corriere, l'ospedale invece la notizia principale, il titolo d'apertura sarà sulla nave, Bertolaso positivo al virus, chiama Ceriscioli, l'idea funziona, la scelta è caduta sul traghetto di Rossi, oggi il progetto servono 12 milioni, due sono stati già donati da Gabrielli e Unipol, si arriva da Della Valle, Merloni e Casoli. Sotto rallenta l'epidemia, ma è una strage, i decessi sono 53 e poi ad Ascoli è nata Anna Rosa, segno di speranza, la madre, lo ricorderete, è positiva, per frutta e verdure invece a Macerata, addio Supermarket, si va nelle botteghe. E allora vediamola questa nave, questo traghetto che ospiterà questi 100 posti di terapia intensiva, Hospital Navi ad Ancona, prima Gabrielli, poi Lunipol, ora manca l'ultimo sforzo, oggi pomeriggio intanto ci sarà un sopraluogo sul traghetto F Claudio di Alberto Rossi, poi il piano finale da sottoporre agli imprenditori delle Marche, 2 milioni ci sono, bisogna arrivare però a 12. È una nave che è lunga circa 186 metri, è alta 15 metri, insomma porta 950 persone, 950 passeggeri, circa 75 automobili sotto, insomma è una nave importante. Francesco Merloni che è imprenditore dice ci siamo, le condizioni fondamentali che ci siano però anche gli altri, Francesco Casoli ora serve tutto, noi garantiremo il nostro sostegno e Paolo Tanoni, CDA di Ariston, dice ci vogliono garanzie su tempi e fattibilità, ce lo dica Ceriscioli. Intanto Bertolaso scrive il Corriere positivo, in quarantena i colletti bianchi. Ancora dalla rassegna stampa, Carlino, il resto del Carlino pubblica un'intervista a Mirko Carloni, consigliere regionale, parla 14 giorni dal tampone positivo, mai amato la vita come adesso, dice lui, ma è dura stare senza mia moglie e senza mia figlia, ora sto meglio, il virus mi ha cambiato. Ho pensato molto alla morte e agli amici, soli in ospedale, che purtroppo non ce l'hanno fatta. Ancora dalla pagina del resto del Carlino, il coordinatore del pronto soccorso cittadino, Gnud in lacrime per il cugino, è morto e non aveva malattie. È toccato anche al dottor Umberto Gnudi, coordinatore del pronto soccorso di Pesaro, piangere una persona cara che la battaglia l'ha persa. Il cugino Paolo, residente in Emilia, alle porte di Bologna, non andrà tutto bene per lui. Stanno morendo delle persone, tante e non solo vecchie malate. Quello nella foto, insieme a mia figlia maggiore, che lo adorava, è mio cugino Paolo, un'altra vittima del coronavirus, aveva 50 anni e non soffriva di malattie. Sbarramenti alti fino a due metri, Cattolica e Gabicce, due mondi a parte, sui ponti ci si passano pacchi e medicine, qualcuno usa la ferrovia. Da ieri la regione Emilia-Romagna, oltre alle barriere in New Jersey, ha fatto mettere in molti punti del confine tra la nostra provincia e la Romagna anche degli sbarramenti alti quasi due metri, quelli in ferro, usati per delimitare i cantieri. Questo per evitare, come già successo nei giorni scorsi, che qualcuno li attraversasse scavalcandoli. In pratica i punti tra Gabicce e Cattolica, dopo la decisione del governatore Bonaccini di isolare l'Emilia-Romagna per bloccare appunto il contagio del coronavirus, assomigliano sempre più ai checkpoint della guerra fredda, stile berlino. E queste sono alcune fotografie che mostrano questi sbarramenti con le pattuglie della Polizia Municipale, la Polizia Locale Romagnola. Parte la questua tra gli imprenditori, già dato, ma se serve ci siamo, dice Mauro Papalini, presidente di Confindustria di Pesorubino. Sul nuovo ospedale a livello regionale già sono stati trovati, come dicevamo, due milioni, uno dal gruppo Gabriele di Ascoli, uno da Unipol. E Pesaro, Confindustria deciderà con gli associati. Scavolini, Selcestocchi, dicono in sostanza, la vogliamo prima capire. Servono 12 milioni per costruire in una decina di giorni una mega struttura per terapia intensiva. Aziende in fila per ottenere il via a produrre, i sindacati dei metalmeccanici hanno scritto al prefetto di Pesaro la polla per l'altra richiesta di deroga. Hackett, parliamo di Daniel con la moglie Elisa e la figlia Vittoria, che vogliono far nascere il figlio a Pesaro, il campione è bloccato però a Mosca e sfida il coronavirus. Vogliamo tornare perché Liam venga alla luce in città. E ancora, scusate, legati visceralmente a Pesaro, costretti a vivere lontano quando il cuore oggi vorrebbe star qui, accanto alle loro famiglie d'origine. Daniel Hackett è a Mosca, dove ancora non si parla tanto del Covid-19 e questo crea ancora più paura. Andrea Cianciarini a Milano dice che sono preoccupato come tutti per la situazione che stiamo vivendo non solo qui ma in tutto il mondo. Sono attualmente i talenti cestistici più importanti che abbiamo esportato e che sono inchiodati a casa ad aspettare che il basket, come tutto lo sport in generale, riparta. Mentre sotto c'è l'annuncio che oggi ci sarà la preghiera con tutti i vescovi delle Marche, qui nella fotografia il Carlino pubblica la foto di Piero Coccia, che è l'arcivescovo di Pesaro, alle ore 11 in diretta streaming dal Santuario di Loreto. Ma in realtà, poi come scrive correttamente anche il giornale, la messa è possibile seguirla per chi ci segue appunto nelle Marche, trasmessa da Fano TV alle ore 11. Oggi tra l'altro abbiamo tanti appuntamenti, ne avremo uno tra pochissimo alle 8 e 30, mi pare sempre da Loreto, se Riccardo non ho capito male, se a Loreto 8 e 30, poi un'altra alle 11, a mezzogiorno vi ricordo che c'è l'appuntamento con l'Angelus, poi il Rosario da San Pietro, ma c'è anche la preghiera che ha chiesto il Papa, il Padre Nostro, da parte di tutti i fedeli, da parte di tutte le religioni, da parte di tutti i cristiani, chiaramente, insomma. E quindi il Padre Nostro a mezzogiorno, poi l'Angelus e di nuovo il Rosario. Poi ce n'è un altro alle 16 di oggi pomeriggio, ancora in diretta da Loreto, alle 18 una messa da San Giovanni Rotondo e poi di nuovo questa sera alle 21 dalla Santa Casa di Loreto il Rosario. Quindi oggi sarà una giornata, in questa giornata importante, perché è l'Annunciazione di Maria, una giornata di intensa preghiera. E allora andiamo avanti con la rassegna. Casa di riposo e allarme parenti pronti a denunciare. A Mondolfo, dopo il caso dei 16 pazienti positivi su 20 sottoposti a tampone, i sindacati chiedono di estendere i controlli a tutti gli utenti e operatori, le famiglie chiedono interventi urgenti da Asur e Regione, diversamente saranno ritenute responsabili. Mentre sotto Federico Talè, consigliere regionale, minori con malattie gravi, 1.000 euro a loro, alle famiglie, contributo confermato e ampliata la platea dei beneficiari. Talè parla di misure retroattive da gennaio. Sono una cinquantina i casi accertati, di cui 11 nella fascia d'età dai 14 ai 18 anni, pronti 600.000 euro. Dalla pensione al fronte, ecco i medici che tornano. Arrivano i rinforzi, già da oggi cinque specializzanti operativi a Marche Nord, poi hanno risposto all'appello diversi specialisti e tre ex dipendenti. I tre riservisti sono pronti a rientrare, hanno dato l'ok per il reparto più caldo, ovvero la terapia intensiva. ci sono questi nomi, queste figure che sono pronte a tornare, a rimettersi il camice, nonostante siano già in pensione, a rimettersi il camice e tornare nelle corsie d'ospedale, appunto, per dare manforte ai colleghi estremati. Virus, altro record di lutti, purtroppo. Sono 187 solo nella provincia. Addio anche a un uomo di 37 anni, a Pesaro e nel resto del territorio i due terzi del totale decessi regionale, 283. La riflessione amare del governatore Ceriscioli sulla lunga fila di Croci. Mentre sull'altra pagina, questa è quella di Pesaro, vedete Pesaro così come Fano, come tante, per fortuna, diciamo noi oggi, tante città che hanno capito qual è il senso di questa azione, di rimanere a casa. Mia cara Pesaro, ti prego, torna presto Franco Bertini e il viaggio nella città deserta che resiste dentro casa. Come amo questa città, almeno esattamente come ognuno di voi. E c'è il racconto, appunto, di Franco Bertini nelle colonne del resto del Carlino, dove dice «Non ci si abitua proprio per niente. La città deserta crea sirene effimere e ingannatrici. Sembrano segnali di serenità, invece sono artificiosi e quasi sinistri. Nascono in un'atmosfera che non è di silenzio uscito dalle cose, ma da un mutismo imposto. Tutti in fila per la spesa, ma senza panico. Anche ieri tanta gente nei supermercati che fanno un appello alla calma, la merce non manca negli scaffali, quindi rispettate le distanze di sicurezza. In queste fotografie, vedete, siamo ancora a Pesaro, gente in fila, percorsi obbligati. È uno scenario inimmaginabile, qualche tempo fa, ma che ora è invece indispensabile. Serviamo uno alla volta, carrelli e ambienti sono igienizzati, all'Ipercop, alla Conad invece ingressi regolati fin dal mattino, si entra 5 alla volta, mano a mano che si esce. Ricordiamo, l'Ipercop Miralfiore è aperto tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30, mentre è chiuso la domenica, questo per quanto riguarda Pesaro. Mercato semideserto invece al San Decenzio, tre sole ambulanti presenti ieri mattina, c'è scoramento, proviamo a resistere, ma non è facile, per fortuna compensiamo con le consegne a domicilio che sono decollate, grazie anche al Carlino. Raccontano Francesco e Tania Borgogeli, che sono i titolari del Banco Frutta e Verdura. È passata pochissima gente, siamo rimasti in pochi tra i venditori, ma continuiamo a fare uno sforzo per offrire il nostro servizio ai clienti. Tenda e gazebo invece a Urbino per effettuare i tamponi montati al sasso, su richiesta della regione Gambini dice che l'Asur sarà un punto di riferimento per Urbino e per le aree interne. Si tratta di una tenda e un gazebo per accogliere le persone che dovranno effettuare i tamponi per il Covid-19. Su richiesta del Gores abbiamo installato vicino al Dipartimento di Prevenzione dell'area Vasta 1 strutture mobili che verranno utilizzate per eseguire questi tamponi. Sarà l'Asur a gestire le operazioni in base ai dati relativi ai casi positivi e a quelli posti in quarantena. Sarà un punto di riferimento per Urbino e tutta l'area interna. E questo ha scritto in un posto sulla sua pagina appunto il sindaco Maurizio Gambini per spiegare il lavoro fatto su richiesta del Dipartimento. La caparra della gita scolastica in dono al pronto soccorso. Naturalmente le gite non ci sono quest'anno e quindi chi aveva dato la caparra per andare in gita scolastica ha deciso di non ritirarla ma di donarla appunto al pronto soccorso. Un bel gesto di alcuni genitori dei ragazzi e del Raffaello di Urbino. A Cagli invece iniziativa dei residenti, l'appuntamento con la musica per scacciare gli incubi del virus ogni sera quarto d'ora Canoro in via Gucci, tutti si affacciano alle finestre e poi il tamburello in via Lapis. Studiavamo da eroi, ora finalmente medici, gran giorno ieri per 30 laureati della Politecnica delle Marche tra cui la fanese Sofia Binci che dice ora più che mai capiamo il sacrificio della nostra professione. Laurea magistrale in medicina e chirurgia ai tempi del coronavirus, ieri è stato il grande giorno per 30 giovani dell'università Politecnica delle Marche. A sottolineare la particolarità del momento ha pensato la fanese Sofia Bonci che a nome di tutti i suoi colleghi ha voluto dire grazie ai suoi professori in prima linea nella battaglia contro il virus. Questo giorno speciale lo dedichiamo a voi, ha detto, lo abbiamo sognato, desiderato da sempre, ne abbiamo tracciato i contorni, scrive Sofia, nella nostra fantasia fin da piccoli, quando orgogliosi dicevamo a tutti di voler fare il dottore da grande. E poi c'è l'iniziativa dell'Unitalsi, teleconferenza per assistere gli ammalati e sotto, chiusi in casa, ci si allena anche in cucina la sfida in rete per vincere la sedentarietà in quarantena, perché è bene comunque rimanere anche in movimento. Turismo in crisi, invece l'altra pagina di Fano del Carlino, detrarre le vacanze dal 7.40 e la proposta del sindaco di Fano Massimo Serie e dell'assessore Lucarelli per risollevare il settore. Intanto salteranno molte manifestazioni clou. Già qualche manifestazione è saltata, qualcuna inevitabilmente salterà, al momento non abbiamo nullato nulla, ma sarà da rivedere tutta la programmazione estiva, ha detto Etienne Lucarelli. Certamente la Colle Marathon e il Festival del Brodetto, entrambi in programma per i primi di maggio, non si potranno realizzare in quelle date, stiamo valutando di spostarle a settembre, anche se per il Brodetto sarebbe un controsenso, dato che negli ultimi anni era stato anticipato proprio per non farlo imbattere nel fermo pesca settembrino. Poi c'è Passaggi Festival, il Fano Jazz che sono pronti, se l'emergenza terminerà in tempo per iniziare nelle date già programmate, ma insomma bisogna vedere quanto tempo ancora saremo costretti a restare in casa, quanto tempo ancora ci saranno queste limitazioni. Ieri il Premier Conte, chi l'ha seguito, ma immagino tanti di voi, ha detto l'emergenza durerà sicuramente fino, o meglio l'emergenza nazionale, è fino al 31 di luglio, ma bisognerà poi vedere l'evolversi della situazione, certamente l'augurio è che possa finire tutto quanto molto prima rispetto al 31 di luglio. Ognuno deve fare, ricordiamolo, la sua parte. E poi dalla BCC di Fano invece, macchinari e prestiti, due iniziative, un regalo per il Santa Croce e aiuti per le categorie in crisi. Mentre questa è la pagina di Fano e della Valle del Cesano del Corriere Adriatico, anche qui il titolo d'apertura, collassato il settore del turismo, detassate le spese per le vacanze, è la richiesta del Sindaco e dell'Assessore che insistono sull'istanza presentata al Governo, così potremo ripartire. Perse le prenotazioni non arriveranno gli stranieri, ma così si incentivano gli italiani. Poi funerale privato per Italo Nannini, le donazioni andranno all'Associazione, l'Africa Chiama Invita a sostenere il suo sogno. L'ultimo saluto sarà oggi alle 15 al cimitero dell'Ulivo, ufficiato da Don Giovanni Frausini e Don Vincenzo Solazzi, ma funerale ovviamente, come sapete, riservato a pochissimi, quindi saranno soltanto presenti la moglie e i due figli. 5 Stelle, adesso la Rivoluzione Verde, proposta all'accelerazione sull'economia ecosostenibile, torneremo ad abbracciarci. Poi dalla Valle del Cesano sostegno al carregiver familiare, la Regione conferma la misura, rifinanziato per il 2020 il contributo per bimbi e ragazzi affetti da malattie rare e poi sotto di taglio basso la morte di Don Arnaldo a Valtroni, lo piange Torrette di Fano, tanti ricordi dei residenti, forte il senso comunitario, le parole del Vescovo. Il Consiglio invece di Terre Roveresche, il Consiglio Comunale, si riunirà via Skype a Terre Roveresche, così farà anche la Giunta. Urbino, via Matteotti, riaperta ma solo per le emergenze, la strada di accesso al centro storico ha da ieri un tratto libero per far passare mezzi antineve di soccorso, solo 30 metri a fine lavori. Poi addio a Bozzolla, il signor Bruschino, figura tipica dell'arte, noto in città per il negozio di dischi degli anni 90, è scomparso ieri Romano Bozzolla, conosciuto come signor Bruschino, soprannome giunto perché lui era davvero un signore, una di quelle persone che per stile, eleganza, modo di fare si possono definire affascinanti e di classe. Era nato vicino Prato nel 1940. Poi sotto il colpo di chioda dell'inverno, a Urbino, oggi si attende la neve, minima meno uno, picco fino a 15 gradi rispetto ai primi giorni del mese. L'osservatorio dice farà freddo per diversi giorni ancora, quindi una spolverata di neve probabilmente ancora nella giornata di oggi potrebbe coprire Urbino. Candelararte invece compie dieci anni e prometto che festeggeremo, dice il direttore Fattori. Sotto invece Ciao Angelo, era l'incarnazione della bontà, dolore per la morte del 37enne Minucci, il ricordo di alcuni suoi cari. Il ricordo di questo ragazzo, era il fratello di Marco Minucci, che era stato consigliere comunale nel Partito Democratico. Don Orlando invece è a combattere con me, dice il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, gli auguri del sindaco al parroco che è ancora in quarantena. Poi Raffaello, celebrazioni da salvare anche nel 2022, se sarà necessario. La richiesta avanzata dal consigliere Londè al Comune di Urbino e alle istituzioni coinvolte. E poi la beffa di primavera, neve e temperature in calo. L'ultima pagina è quella di Senigallia, della nostra rassegna stampa. Mangiava solo quattro uova al giorno e la dieta calvario del dottor Google. La sessantenne con gravi problemi di fegato, salvata dal suo medico, così si generano scompensi difficili da recuperare. E questo per dire che cosa? Per dire che quando bisogna fare una dieta, quando bisogna cercare qualcosa che riguarda la salute e quant'altro, è sempre meglio rivolgersi ad un dottore in carne ed ossa e non al motore di ricerca Google o qualsiasi altro motore di ricerca. Perché non c'è nessuno, meglio del vostro medico, meglio di uno specialista in carne ed ossa, che possa vedervi, guardarvi, controllarvi di persona, piuttosto che un freddo computer che dà risposte a tutti. E allora grazie per averci seguito. Noi ci salutiamo qua. C'è, come abbiamo detto, tutta una serie di dirette oggi che vi invito a seguire. Poi alle 20.30 il telegiornale Occhio alla Notizia con le notizie del giorno. Questo è il numero di telefono invece per le vostre segnalazioni. Grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di una serena giornata. Grazie per averci seguito